bello a tutti ragazzi e oggi siamo nel primissimo video di one in the chamber con ramadale oggi saremo qui nel one in the chamber per cercare la rimonta perchè il tizio sta già a 11 praticamente è one in the chamber ai 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 oh ma questo che cazzo è aveva comunque sto adesso io in partita per amare il entra praticamente con l'arco come avete visto si sciotta la nonna e invece con la spada si sciotta il nonno vabbè non si sciotta con la spada però si sciotta con solamente con l'arco con la spada invece si combatte peggio di un porco in calore ma sono fortissimi porca tuttana ma mori ma mori no non ho preso non ho preso ma mori fuori male mori a ma tutti conto di me lo so che sono forte però si boom oddio boom ea ok sei chi sei chi sei chi sei un coglione sei tu oh 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 che cazzo mi sta succedendo un orgasmo per favore scusa non faccio più oh ma doma questo qua ma che cazzo ma che cazzo di h amico mio roberto roberto filmino mori mori pure tu morì e va beh sì siamo due pippe grandissime pippe siamo veramente io lo stavo quasi per recuperare cioè sono entrato quando il tizio stava a 11 e io stavo a zero ma taci chi 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 lauroso del ca cioè chi lauroso vabbè questo qua è uno starnuto non è uno scritto di un corpo del caone ma ma che ti hanno dato del kill lauroso no 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 non ce l'avevano con me penso eh se ce l'hanno con me tipo li uccido male la nonna dico vieni qua nonna che ti uccido con la spada in pietro così a casa no 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 non lo faccio più non lo faccio più bastardo bomber di me ma questo qua vola ma chi cazzo è oh ok no no ma guardate ma chi cazzo ma guardate oh ma vabbè madama su ma quanti hackeroni qua ci sono su sto merda di server annagio non fanno neanche un controllo antipanana di merda sono primo non so neanche come cazzo sto facendo essere primo no non ci credo oh ma mi ha rotto il cazzo sto le due otto non mi fa manco spawnare che mi uccide oh roberto carlos che zio di ma vaffanculo oh attenzione dislike sul tuo canale dislike sul tuo canale dislike sul tuo canale oddio la strage la strage oh richigi di merda mannaggia basta bestemmiare oh ma mi sciottolo con niente guarda vabbè con l'arco si vedi ma mi sciottolo la nonna no ma pure con la spada attenzione la doppia e basta cristo madonna no ma come son forti guarda oh è noi e vabbè per modonna che nel non mancanissimo mi chiedono come cazzo fanno morì mannaggia 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 bastardo oh va beh mi ha rimontato herry mi ha rimontato ma chi cazzo è Ma non fai a scagare Tu e quella tua mamma di merda Niente, il diritto di questo video Può finire acquista Il video è difficile Asciato un like, un commento Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto E la possiamo stare a tutti E ciao Bella Ciao